Oggiorni, prumento, lucidutri, o Signore, pane di vita il tuo corpo per cuori, con miele dalla roccia, uccisanzi, o Signore, e bontà di soltezza, e il tuo sangue per noi. Oggiorni, prumento, lucidutri, o Signore, e fiorisce in fuori la spina, il tuo corpo ci doni, Signore, e per noi il pane di vita. Oggiorni, prumento, lucidutri, o Signore, cari amici ben ritrovati per condividere in famiglia il pane della Domenica. Oggi celebriamo la solennità della Santissima Trinità. Approfitto dell'occasione per ribadire che queste conversazioni, che da un po' di tempo mandiamo in video, non hanno un taglio omiletico, cioè non sono da mettere sullo stesso piano delle omelie che vengono tenute durante le celebrazioni liturgiche. sono piuttosto da intendere come conversazioni catechistiche tendenti alla formazione cristiana, accostandosi ai testi biblici della Domenica, che richiedono di essere approfonditi per consolidare la nostra fede. Ciò che viene detto nell'Omelia non è sufficiente, che purtroppo anche per il limite di tempo, richiedono pertanto una maggiore disponibilità di tempo e di volontà da parte di tutti noi, da parte di voi ascoltatori, di servirsene per un cammino di fede. Potrebbero costituire anche uno stimolo particolare ai nostri carri amici che, per i motivi più svariati, hanno abbandonato la strada proposta da Gesù. E infine, anche per coloro che affermano di non essere credenti, una proposta di ricerca seria, ben motivata ad avvicinarsi al cuore di Gesù per avvertirne i palpiti di amore del modo più vero che può dare. cari amici, buon ascolto e attento ascolto. dal Vangelo secondo Giovanni Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo si è salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Oggi la Chiesa celebra la festa della Santissima Trinità. Cioè di un Dio che è Padre, Figlio e Spirito. Ogni volta che noi facciamo il segno della croce sulla nostra fronte e una volta che iniziamo e concludiamo la Messa noi lo facciamo nel segno della Trinità, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Uno e tre. Un bel mistero. Anzi, il mistero dei misteri dal quale tutti gli altri derivano. Un mistero così arduo per le umane capacità di comprendere, da farlo ritenere proprio per questo non un'invenzione umana. Quale mente umana avrebbe potuto inventare una cosa simile? A nessuno poteva banenare nella mente. Nulla ne sapremmo se appunto non fosse stato rivelato. ma pur sempre mistero. Tante menti superiori hanno cercato di indagarlo, ma con esiti limitatissimi. Più che mai in questo caso la mente cede e le parole umane di fronte all'ineffabile si rivelano inadeguate, sono soltanto timidi balbetti che lo si intuisce, si limitano a sfiorare una realtà di natura sua non contraria, ma eccedente delle nostre capacità di comprensione. lo fa capire anche un noto aneddoto che tutti conosciamo relativo a una delle più acute menti mai esistite, Agostino di Ippona, cioè Sant'Agostino. Un giorno si narra, egli passeggiava avanti e indietro sulla spiaggia, immerso nell'arduo tentativo di spiegarsi appunto la Trinità, quando notò un fanciullo che aveva accanto scavato una buca nella sabbia e con una ciotola li portava dentro acqua del mare. «Che fai?» gli chiese Agostino. «Metto il mare in questa buca». Fu la risposta. E Agostino, in urgente, un po' a me. «Bia, ma come puoi riuscirci? Ma non vedi come grande è il mare?» Ma ecco la risposta. «E tu, come pretendi di far stare l'immensità di Dio dentro la tua testa?» «Inspiegabile, amici, la Trinità, nella sua dimensione profonda». La Trinità, però, e questo dobbiamo sottolinearlo bene, la Trinità non è uno sforzo innanzitutto speculativo di equilibrismo, in modo che la mente capisca chi è Dio. Non è necessario fare questi equilibrismi. La Trinità è l'esperienza innanzitutto dei primi discepoli. Gesù, loro amico, loro compagno e loro maestro, si riteneva figlio di Dio e agiva realmente così, da figlio di Dio. In quell'uomo c'era Dio. I discepoli in quell'uomo sperimentarono un mondo d'amore, di comunione, di vita così grande, qualcosa che era così profondo da non avere fondo. E utilizzarono l'immagine che più poteva esprimere questo. una famiglia con un padre, un figlio e il loro amore, lo Spirito. Ecco, la Trinità è l'esperienza dei primi discepoli. C'è un Dio che sta di sopra di noi, che è la nostra origine, il nostro utero, che chiamiamo padre e madre. C'è un Dio che sta con noi, che si fa compagno del nostro cammino e che si chiama figlio. e c'è un Dio che abita dentro di noi come entusiasmo. Entusiasmo, letteralmente, vuol dire avere un Dio dentro. Creatività, forza, passione, energia e si chiama spirito. Come sappiamo anche dalla Bibbia, eh? Il mondo è stato creato ad immagine di Dio e della Trinità. Entriamo in qualche esempio, no? C'è molta diversità tra me e una pianta, tra me e il fiume o tra me e un animale. Allora, se c'è diversità, meglio, sì c'è diversità, ma c'è unità profonda che lega ogni cosa. E su questo dobbiamo riflettere. Io, ognuno, sono formato di atomi che ci sono organizzati in cellule e in un organismo dotato di unità e di spirito. quando morirò tutto si disgregherà, ma non morirà. I miei atomi di oggi, parlo di atomi, eh? Magari cinquant'anni fa appartenevano a un personaggio storico e mili anni fa ad un monaco di qualche convento o ad una pianta. Magari erano di Pilato o di qualche dinosauro. Cioè, c'è una unità profonda di ogni cosa. I fisici sanno che un lieve cambiamento a Tokyo potrebbe avere grandi conseguenze a Roma. Allora, io sono diverso da te. Tu sei tu e io sono io. Ma io non sono poi così diverso da te. Perché io sono costruito come te. Sono fatto di ciò di cui anche tu sei fatto. Io sono più unito a te di quello che penso. Quando Francesco d'Assisi, ricordiamo il Cantico delle Creature, chiama fratello e sorella ogni essere, anche la morte, non è una bella formulazione romantica o poetica. perché tutto è nostro fratello e sorella, perché tutto è fatto come noi e di noi. Mistica è poter unire il nostro spirito con ciò che è già unito nel profondo. nel mondo tutto è diverso, ma tutto è unito. L'uomo stesso è creato a immagine di Dio. Ricordiamo Dio dice facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza. Quando eravamo bambini abbiamo fatto l'esperienza dell'unità. Eravamo un tutto con nostra madre, la cosiddetta fase onnipotente. Eravamo totalmente fusi con lei. Eravamo nel grembo della vita. E ci sembrava che fuori di noi non ci fosse nulla. Ci sembrava di essere noi il tutto. Poi nel tempo abbiamo fatto un'esperienza diversa. Ci siamo accorti che non c'eravamo solo noi. ma che c'erano anche tante altre persone. Ci siamo accorti che eravamo diversi dagli altri. Che eravamo unici. Che eravamo in tanti. Questa è stata la seconda grande esperienza della vita. La diversità. Ma se abbiamo camminato, se siamo cresciuti, allora abbiamo sperimentato anche una terza dimensione. L'unione. Sì, siamo diversi, siamo lontani, siamo tanti. Ma c'è qualcosa che unisce le persone. C'è qualcosa che le lega. C'è qualcosa che si intesse e che si stabilisce fra di noi. Sono le relazioni e l'amore. Per cui tu sei tu e io sono io. Ma c'è qualcosa che ci unisce. L'uomo è trinitario. Tu sei tu. Io sono io. Ma c'è qualcosa che ci unisce. È nello spirito che possiamo toccarci. E nell'amore che le nostre distanze vengono valicate. E che possiamo incontrarci. Alcune persone sono rimaste allo stadio infantile. Sono narcisiste. Pensano di essere le uniche nel mondo. Ci sono persone che credono che il mondo debba ruotare attorno a sé. Sono onnipotenti. Si credono ancora a Dio. Non sono ancora nate. Non hanno fatto ancora l'esperienza della diversità. con molte persone. Non si può proprio parlare. Sanno tutto loro. Io ho fatto così. Io so. Io capisco. E ti raccontano tutte le cose. le loro imprese. Tutte le loro smisurate conoscenze. Esistono solo loro. Molti superiori gestiscono i loro collaboratori come delle marionette. Così a volte i genitori con i figli. E spesso i capi con i dipendenti. Muovono, spostano, non chiedono niente. Comandano, decidono. Non chiedono mai. Perché tanto chi sta sotto non prova niente. E gli va bene tutto. Non ha un cuore che è sotto. E quindi non ha verito di esprimersi. Credono che tutto il mondo e le persone siano in funzione loro. C'è una madre con tre figli che non è cresciuta lei proprio. I suoi figli le servono per rifornirla affettivamente. Lei è sempre malata. I suoi tre figli le fanno da babysitter, da badante, da infermiera. Cioè i figli vivono per lei. Il mondo ruota attorno a lei. Quante persone sono così unite con i genitori che non riescono a vivere senza. Devono ancora nascere. E d'altro canto non sono mai state partorite. devono ancora staccare il cosiddetto cordone umbilicale. Non potranno mai diventare se stesse. Ciò che devono essere. Perché sono ancora in simbiosi con i genitori. e venire al mondo come Gesù è venuto al mondo. Questa è la bellezza. È il senso della vita. Certo fa anche paura. Fa paura venire al mondo. Perché poi si è da soli. Perché poi Cioè si deve cavare senza qualcuno che ti copra le spalle. Ma non si può essere diversi. Cioè se stessi. Se non ci si distacca. Se non si rinuncia a questo grembo di sicurezza. Che un giorno. Era protezione. Culla. Ma che ora diventa. Barra. Fossa. Un giorno era vita. Oggi è morte. Un padre poi ha detto. Mia figlia va all'università. E fa quello che voglio io. Altrimenti va a lavorare. Un uomo del genere. Che uomo è? Un uomo ancora fuso. Non può vivere accettando che sua figlia. Non è lui. Ma che è un'altra persona. Sta rovinando veramente sua figlia. Il narcisismo fa vittime. Una madre poi fa di tutto. Perché sua figlia non esca di casa. Ha trent'anni la figlia. Si ammala. La colpevolizza. Fa il muso. Fa l'offesa. E la triste. Dice. Senza di lei. Non posso vivere. E' ancora sua figlia. E' sua figlia. E' sua figlia. E facendo così. La ucciderà nell'anima. perché se non partorisco le persone, se non le lascio andare, le uccido. sono ancora nel mondo dell'unità, della fusione e del grembo. Sono realtà che viviamo tutti i giorni. Altre persone sono rimaste poi allo stadio invece della diversità. Per molte persone essere diverse, la parola diversus vuol dire che ognuno ha la sua strada, il suo verso, la sua cosia. E' un peso. E' faticoso. Perché le costringe a venire fuori, a mettersi in gioco, ad esporsi. Così preferiscono rimanere come tutti. E' il conformismo. L'indifferenza, le mode. Molte persone vivono la diversità come competizione e si confrontano. Io sono meglio di te. Io sono più di te. Tu sei più bello di me. Tu sei più riuscito di me. Ma competere vuol dire che non accetto la diversità. vuol dire che cerco di dimostrare che io valgo più di te. Ma se devo valere più di te vuol dire che non ho sviluppato ciò che sono. E' come dire, è più una pera o una banana? Ma che domande sono? La pera è una pera. La banana è una banana. Non si possono confrontare. Se tu fai la pera, io farò la banana. E non ci sarà molto motivo, diciamo, di gelosia e di confronto. Ma se tu, che sei una pera, vuoi fare la banana, uno, non lo sarà mai. E due, tenterai di sminuire pure me. Altre persone si affrontano, si fanno guerra, sentono l'altro come nemico, un pericolo. Il mondo familiare, il mondo del lavoro e, a volte, anche le nostre comunità cristiane, sono piene di persone che, di nascosto soprattutto in parrucchia, si combattono. L'altro lo sento come un nemico e tento di ucciderlo, di zittirlo, di eliminarlo. Siccome non lo possono fare fisicamente, lo faccio con parole e giudizi. Tu sei una banana. Siccome io sono una pera e non accetto che tu sia una banana, io ti elimino. Ma è la stessa cosa quando ci arrabbiamo o ci indispettiamo, perché gli altri non la pensano come noi. Questo succede spesso. Non fanno come noi o come noi vorremmo. Vorremmo uniformare gli altri a noi e poi ci arrabbiamo e diciamo che sono stupidi, che sbagliano, che non capiscono niente se non fanno come noi avremmo fatto. Dobbiamo ancora crescere. Ogni volta che noi giudichiamo, ogni volta che noi giudichiamo facciamo così. Giudicare. Ecco, in greco si dice crino. Crino vuol dire dividere, separare e tentare di stabilire una superiorità tra te e me. Naturalmente io sono superiore. Chi giudica non ama e se non si ama e non si ama. Chi giudica non accetta gli altri, perché non accetta in realtà neppure se stesso. Chi è contento di essere pera non ha bisogno di accusare la banana, né di sminuirla. La sminuisce solo per farsi più grande. Io sono piccolo e devo tirare giù l'altro in modo che diventi più piccolo di me, così da sentirmi superiore a lui. Chi giudica tenta di farsi superiore. Ma noi possiamo vivere anche l'esperienza trinitaria. Qui il punto. Io sono io e tu sei tu. Ma c'è qualcosa che ci unisce per cui tu che sei totalmente tu e io che sono totalmente io siamo uniti dall'amore. Se io sviluppo e vivo la mia diversità, se io compio la mia strada nella vita, sono felice. Ho la sensazione di realizzare una direzione. Sono contento di ciò che sono e di me. Allora posso accettare anche altre strade. non ho motivo di essere geloso di chi fa in maniera diversa. Io faccio la mia e sono felice. Tu fai la tua e sei felice. E anch'io sono perché questa è la tua. Le cose a questo mondo si possono fare in tante maniere. Noi spesso definiamo sbagliato ciò che è solo diverso. ci sono tanti modi di pregare, per esempio. Ci sono tanti modi di vivere la famiglia. Ci sono tanti modi di amarsi. Ci sono tanti modi di pensare. Ci sono tante possibilità. il tanto riflette l'immensa grandezza di Dio, la sua varietà, la sua creatività. L'amore simbiotico, funzionale, malato, è quello di chi crede e vive che amare sia fare le stesse cose, pensare le stesse idee, a vedere le stesse cose. non accetta la diversità, l'alterità. Deve ancora nascere. E dice, ti amo perché sei come me. Ti amo perché vedi le stesse cose come le vedo io. Non accetta la diversità, l'alterità. Deve ancora nascere. In realtà, quando agisco così, non sto amando te, ma sto amando nient'altro che me. La mia immagine riflessi in te. Amare qui vuol dire rendersi uguale. Molte persone dicono, pensiamo alla stessa maniera. Ci capiamo al volo, senza parlarci. Abbiamo gli stessi interessi. Non li chiediamo mai. E vanno orgogliosi di tutto questo. Lo chiamano amore. E non si accorgono di amare se stessi nell'altro. Quando poi l'altro farà vedere anche la sua diversità, ciò che è veramente, allora lo rinnegheranno. non sei più come una volta. Sei cambiato. Non vai più bene. Ma se Dio ci ha creati diversi, unici, amare così vuol dire rifiutare Dio. È un incontro molto superficiale perché, mentre io penso di incontrare qualcun altro, in realtà incontro nient'altro che me. Qui non c'è crescita, non c'è novità, non c'è vita. Diversità è incontrare qualcosa che non è me. L'amore maturo, invece, è quello di chi trova l'unione non perché sia uguale, ma proprio perché sia diversi. Ti amo perché tu sei tu, perché non sei me. amo qualcosa che è altro da me. Questa è l'unione vera, questo è l'amore, è quel legame che c'è fra me e te, quello spirito che si incontra al di là di ciò che facciamo o di ciò che pensiamo. È l'unione, l'incontro delle nostre anime e non delle cose che facciamo o dei nostri pensieri. Amare non è pensare, fare le stesse cose. Amare è incontrarsi nello spirito, nel profondo, nell'anima. Nella Bibbia si dice che Dio creò l'uomo su immagine, maschio e femmina. è nella diversità che Dio si manifesta e si rende visibile. Quante volte nelle comunità cristiane ti si accusa perché lui non fa come me, ma c'è spazio per tutti. è solo diverso. Oppure, ma si è sempre fatto così. Questo è il ritornello che si sente in quasi tutte le parrocchie, no? Si è sempre fatto così. Ma le cose si possono fare anche in maniera diversa. Per cui, se il parroco fa in un altro modo, spesso c'è gente che abbandona la chiesa. o viceversa. Se il parroco vede che ci sono persone che propongono altre cose, nuove, che possono avere un valore pastorale, ma fanno di tutto per allontanare questi fedeli. Quante volte nella storia abbiamo imposto la nostra fede? Eh sì, abbiamo imposto la nostra fede. Oggi parliamo appunto della Santissima Trinità. Santissimo Trinità, diciamo, è il mistero principale della fede. L'evangelizzazione, in storia si studiano queste cose. L'evangelizzazione, nei secoli scorsi, è diventata una conquista, una dominazione. La storia della chiesa passata, ci sono anche dei fari luminosi, d'accordo? Non può essere distinta dalla storia dei re, dei principi cristiani e delle loro guerre. Dove, non scandalizziamoci per questo, ci sono cose che avvengono, eh? O meno sono venuto e avvenute più che altro. Dove arrivò il cristianesimo? Arrivò anche la distruzione delle religioni locali, l'imposizione della versione occidentale della fede evangelica, e l'introduzione del modo di vivere dell'Occidente. Questo è stato un grande sbaglio, confondere il Vangelo con l'Occidente. Per questo, per la stragrande maggioranza di coloro che vivono al di fuori dell'ambiente occidentale, il cristianesimo rappresenta la religione dei dominatori, complice della loro crudeltà e l'impietà. L'idea di fondo era, chi non è come noi sbaglia, o cambia o lo facciamo cambiare. Nei secoli passati si diceva Bahia, Brasile, ha tabacco e vuole schiavi. Costa della miniera, Africa, ha schiavi e vuole tabacco. Facciamo un affare che è buono per tutte e due, le parti. E così, uomini neri venivano scambiati per tabacco. Cosa non è successo quando la diversità è stata scambiata per inferiorità? Ma attenzione, attenzione, perché il fenomeno si ripete. E gli ebrei, siccome erano diversi, lo dicevano però i nazisti, eh, erano inferiori. E i poveri, gli handicappati, gli omosessuali, i malati di HIV, i lebrosi, sono diversi da noi quindi, sono inferiori. E eliminiamoli, emarginiamoli, quando direttora non uccidiamoli. Quante volte, in quante forme, la diversità diventa un nemico. Ma cosa faccio io nel mio piccolo quando incontro una diversità? Se non è come me, l'altra persona, cosa penso? E qui, siamo interpellati ogni giorno, amici. Se non è come me, cosa penso? Non penso che sbaglia. Non penso che farebbe bene a cambiare idea. Partito anche. Cambiare anche religione, modo di vivere. E se non cambia dentro di me, non lo giudico e non lo escludo? Sono forse tanto diverso. Ecco, il capitalismo fa così. Quindi, miliardi di persone sono diverse. Sono degli zeri economici. Capito, eh? Zero economici. Sono masse eccedenti, per cui le possiamo sfruttare, umiliare, spremere. Così, milioni di bambini e di uomini possono morire di fame, morire di sete, di mancanza di condizioni minime e nessuno alza la voce. Dovremmo chiedere scusa, vergognarci e dovremo cambiare. A questo punto mi direte, ma oggi si doveva parlare della Santissima Trinità, ma finora ha parlato di tutt'altro. No. La Trinità Santissima era dentro in tutte queste situazioni. La Trinità, Padre, Figlio e Spirito. Tre persone, ma entrambe Dio. Il messaggio per noi uomini è siamo tutti diversi, ma tutti uguali. Nessuno è di più, nessuno di meno. Non sentirti più di nessuno e non sentirti di meno di nessuno. Non umiliarti di fronte a nessuno. Sentiti di meno degli altri e non colpevolizzare nessuno. Padre, Figlio e Spirito. Tre persone diverse, ma in comunione, in relazione fra di loro. Per noi uomini vuol dire siamo tutti differenti, ma uniti dallo stesso amore. Uniti non perché facciamo le stesse cose, ma perché ognuno sviluppa se stesso al massimo e ci incontriamo in quel luogo uguale in tutti noi che è il nostro Spirito. Tutti diversi, ma uniti nello Spirito. Tu incontri il tuo Spirito. Io incontro il mio Spirito. Se questo verrà, tu rimanendo tu e io rimanendo io, avverrà il miracolo. Ci incontreremo. Ecco, la relazione trinitaria. Nel 1985, Papa Giovanni Paolo II visitò le Ande. Ramiro Reynaga, capo indigeno della Bolivia, prese l'offersione per dirgli «Noi indios delle Ande e dell'America abbiamo deciso di approfittare di questa sua visita per restituirle la sua Bibbia, perché in cinque secoli essa non ci ha dato né amore né pace né giustizia. Per favore, santità, riprende la sua Bibbia e la restituisca ai nostri oppressori, perché loro ne hanno più bisogno di lui». Dall'arrivo di Cristoforo Colombo, sappiamo, sono stati imposti all'America con la forza una cultura, una lingua, una religione e valori propri dell'Europa. La spada spagnola, che di giorno attaccava e uccideva il corpo degli indos, la sera diventava croce per attaccare l'anima indi. Il Papa, Giovanni Paolo II, non poteva rispondere niente, grande uomo, grande Papa, e fece l'unica cosa dignitosa che poteva fare. «Pianse, ciò che è diverso non esiste, lo uccido e lo tratto a mio piacimento, diversi e separati». Una decima di anni fa, Christiane Marie de Chaget, uno dei sette monaci uccisi in Algeria dai terroristi islamici, lui era priore, scriveva nel suo testamento dove prevedeva la fine prossima. «Molto bello questo». Ecco, finalmente potrò, a Dio piacendo, immergere nel mio sguardo in quello del Padre, per contemplare con lui i suoi figli dell'Islam, come lui li vede, totalmente illuminati dalla gloria di Cristo, dono dello Spirito, la cui gioia segreta sarà sempre stabilire la comunione, ristabilire la rassomiglianza, giocando con la differenza. E ci sia dato di ritrovarci ladroni beati in paradiso, se piacerà a Dio, nostro Padre comune. Amen. «Anshia Allah» «Ciò che è diverso esiste, lo rispetto e non posso cambiarlo solo perché non è come me, diversi ma uniti». «Cari amici, buona festa della Santissima Trinità». A ritrovarci la prossima domenica, festa del corpo e sangue di Cristo. «Ciao, ciao». «Ciao, ciao». «Ciao, ciao». «Ciao, ciao». Grazie.